Buona giornata, mercoledì 21 novembre 2018, oggi Team WOD, team da 3 per l'esattezza. Si comincia con 7 minuti unwrap dove ci saranno 50 push press, a seguire con un carico maggiore 50 push press e poi con un carico ancora maggiore 50 push press unwrap fino ad arrivare alla fine dei 7 minuti. 3 minuti di pausa, poi la stessa cosa con i front squat, altre 3 minuti di pausa e altre 7 minuti con i hand power clean. Pesi e scalature come al solito qua di fianco, vi ricordo che su Instagram potete trovare sia la spiegazione più dettagliata della classe che il riscaldamento suggerito dai nostri coach. Ci vediamo domani!